sono tornato mi sentite ci siamo eh mi dovreste sentire si dovrebbe vedere bene adesso si dovrebbe vedere bene ditemi di sì vi prego ditemi che si vede o è sempre pixelato ma non va hola buono che ci sta adesso sì la maledizione di fonseca ma non va sì sì va va ragazzi si dovrebbe vedere tutto bene adesso ditemi che è tutto ok dovrei aver sistemato in tre minuti anderoxim dice adesso sì ho rimesso le impostazioni che avevo vecchie ragazzi ho messo tutto ok benissimo benissimo insomma vabbè qualcuno se n'è andato eravamo una quindicina peccato qualcuno se n'è andato comunque adesso siamo tornati per fortuna siamo tornati un'altra volta sì tutto ok falchetto pure mi dice battami dice ok bene sono contento ragazzi ragazzi meno male che faccio l'informatico in tre minuti abbiamo sistemato super tecnico lollo tornano tornano vabbè torneranno torneranno ragazzuoli ora dove eravamo rimasti che squadra ho preso siamo in terra ucraina la terra un pochino della gnagna no però anche il terra molto fredda si va per lungo per me un problema del giorno no no non si va per le lunghe nicolò sono tornato e si vede non si va per le lunghe ci siamo ci siamo non vi preoccupate che ci siamo che mettevi un porno ucraino no non si può batman sei un maialone tu sei un maialone non si mette non si mette allora ragazzi football club veresh ribne allora vi devo raccontare prima di andare e spiegarvi quello che ho fatto ovvero che ho fatto un po tutto quanto il calcio mercato per quello che potevamo fare mi sono fatto aiutare dal direttore sportivo che non sono granché lo staff non è granché ragazzi ma quello che c'era da poter comprare peggio di quello che avevamo quindi gli acquisti pietro ve li faccio vedere adesso con calma e soprattutto vi faccio vedere vi vi racconto la storia di sta squadra che voi dite ma dove sei capitato lollo allora questa squadra qui è una società di calcio di rivne la città si chiama rivne in ucraina andate a cercare su su wikipedia dove vi pare si chiama rivne ok la maglietta è rosso nera e va bene il club è stato fondato nel 1957 con il nome di kolospnik attenzione nel 66 cambia nome e diventa diventa orin come il fiume che scorre in quella zona nel 72 successivamente la chiamano in un altro modo nel 1972 ovvero avanard dopo la dissoluzione dell'unione sovietica c'è stata la dissoluzione dell'unione sovietica questa è storia prende l'attuale denominazione di veres veres rivne cioè la squadra della città di rivne ok questa squadra che cosa ha fatto allora nel 93 94 riesce a salire nella premier premier liga ok prima prende prima parte dalla persia liga ovvero la serie b poi va in serie a in serie a nel 93 nel 94 per due volte è semifinalista della della coppa di ucraina ok tra il 95 e il 97 invece ritrociate due volte e resta in drua liga fino al 2011 drua liga sarebbe la serie b ok anno in cui la squadra nel 2011 dichiara bancarotta adesso iniziano il caos ascoltatemi bene bancarotta nel 2011 nel 2015 la squadra viene rifondata dal presidente che era della federazione regionale ucraina di allora e consegue due promozioni consecutive fino a ritornare in premier liga nel 2015 dopo una stagione quindi nel 2016 2017 arriva sesta in campionato ma che succede complici i mancati lavori del rinnovo dello stadio avanard che si chiama così lo stadio del di questa squadra e sono stati costretti a giocare a live guarda è una squadra che vedete lì sotto ci sta scritto a sinistra sopra di noi c'è live però questa è un'altra squadra era l apostrofo viv scritto così però con l'apostrofo di leopoli quindi è dovuto andare da un'altra parte a giocare la società si fonde costo live e quindi consentendo a quest'ultima di disputare la premier league perché fondendosi è riuscita comunque a fare la premier league ma cosa succede dopo la fusione dopo questa fusione nasce un nuovo veres cioè quello che abbiamo adesso una rodney club veres rivne che dalla stagione 2018 2019 riparte dalla serie c ok adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio è un casino e proprio in sostituzione del live poi che cosa ha fatto ha vinto la serie c è andata nel 2019 2020 in serie b e poi ha vinto la serie b e quest'anno 2021 2022 sta in serie a ok mi sembra di aver detto un pochino tutta la storia di questa squadra qui si fa nottata no non si fa nottata abbiamo abbiamo un pochino riassunto la storia che poi ascoltate bene che c'è il test finale esatto esatto però per farvi capire questa squadra è stata fondata tipo tre volte è stata rifondata ha fatto due per due volte è stata come dire eh crocifissa e buttata in serie c capite ragazzi eh è veramente veramente tosta è finita la storia adesso vi faccio vedere questa è cultura con la c maiuscola questa è la cultura calcistica ragazzi che bisogna ogni tanto dire e fare ve la faccio vedere anche da qua ragazzi info societarie perché se no dite lollo che fa tanto questo qua è lo stadio guardate un po' insomma come la lazio no batman no 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 guardate avanguard di rivne questo è lo stadio guardate che roba guardate che roba sto stadio cultura con la c maiuscola esatto esatto stufa queste sono le magliette perché ucraina c'ho le magliette ragazzi abbiamo le magliette la storia vi faccio vedere la storia generale ecco qua quello che ha fatto guardate 2010 2011 poi salita su salita su serie a retrocessa per bancarotta in serie c promossa promossa e ora sta in serie a per farvi capire come siamo messi bene allora questa qui è la rosa allora iniziamo iniziamo quindi visione societaria vi ho fatto vedere quello finanze l'avete viste l'avete viste prima nell'home page ovvero abbiamo zero di trasferimenti e 529 mila di ingaggi niente per la serie a ma non dovevamo andare in ucraina per la gnagna altro che cultura sigla che oppure tu c'hai ragione effettivamente effettivamente è vero effettivamente hai ragione hai ragione hai ragione purtroppo siamo come vedete penultimi in classifica però a tre punti dalla zona salvezza voi dite è che ci vuole tre punti ci arrivi subito lollo no no ragazzi sono tutte squadre più forti di noi veramente veramente ho visto le altre squadre sono tutte più forti di noi vi faccio vedere ma la cultura aiuta anche a trovare la gnagna esatto falchetto la cultura è fondamentale per la gnagna ragazzi la salvezza si punta pietro è l'obiettivo di questa stagione è la salvezza certo certo no vabbè bella storia comunque aggiunge il sale a questa sfida si clacchio è la storia bisogna farla perché questa è una storia penosa guardate adesso andiamo a giocare l'amichevole in un campo il nostro ventilato leggermente nemoso meno due gradi cioè veramente ma freddo cane non non freddo ma cane comunque una cosa positiva c'è tra tutte le negatività una cosa positiva c'è sta squadra l'ho presa che sta ai quarti di finale della coppa contro il metalist che è ultimo in classifica con noi a 15 punti noi penultimi e qui ultimi lollo sei sparito nicolò io sto qua da tre ore che so sparito ragazzi nicolò aiutatelo perché c'ha problemi fatevi far refresh leggermente nemosi in ucraina quindi due metri di neve falchetto anche anche tre metri secondo me comunque 15 come vedete 15 punti il metalist ci giochiamo il quarto di finale non male ragazzi non male wow il metalist si eccolo qua il metalist 1925 nicco è andato in pappa anderoxy sì sì è andato in pappa allora che volevo dirvi andiamo con la rosa vi devo far vedere la rosa portiere adesso adesso preparatevi eh refresh che è in live e funziona tutto meno male va basta che vedete bene ragazzi che si legga bene ditemi che non è pixelato ditemi che non è pixelato ragazzi a mente resta solo questo poi per il resto anche a te funziona tutto bene ok allora andiamo col portiere 32 anni artem kicak guardate un pochino questo è il portiere in teoria uno dei più forti della squadra eh si vede bene tutto ok perfetto perfetto si legge perfetto guardate ragazzi palle alte è un fenomeno quindi sui cross non abbiamo problemi e magari sulle uscite spero non ho visto le uscite no c'ha otto nelle uscite guardate rinvii riflessi questo è da serie c sto giocatore sono tutti giocatori da serie c adesso vi faccio vedere questo qua è il nostro portiere con una buona determinazione massima elevazione insomma è uno alto 1,98 e quindi sulle palle alte è forte ok questo è il nostro titolare come terzino destro devo capire ancora chi mettere perché ho fatto solo un amichevole al momento mettiamo lui che era pure in vendita ma io non me lo tengo igor soldat ve lo faccio vedere eccolo qua lui il terzino destro fluidificante ma mi farà il terzino offensivo come avete visto la stessa tattica ragazzi useremo adesso vi faccio vedere la stessa tattica che abbiamo usato con il como iniziamo con quella con quel 433 ecco con 20 massima elevazione lo farei anche salire sui corner veramente stufa questo biondino si chiama igor soldat allora questo qui come vedete è un terzino che non è malaccio ce ne sono anche più forti in teoria questa la mamma figa sicuro si che la che ho esatto è uscito bello quindi sicuramente che la che ho esatto 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 soldat ma non è malaccio è contrasti marcatura passaggi insomma tecnica così così però ragazzi facciamo fare il terzino offensivo ok e questo è uno poi e adesso la difesa è la peggior è ovviamente il peggior reparto ho potuto fare poco o niente come calciomercato poi vi faccio vedere intanto gonciarenco l'altro difensore centrale 12 12 e 13 ragazzi molto medio guardate guardate voi le le statistiche con aggressività coraggio freddezza posizione vedete per anche la determinazione male 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 diciamo che i giovani qui non sanno cosa siano tutti over 28 quasi sia under oxy purtroppo li ho presi io i giovani però adesso vi faccio vedere poi gonciarenco miroshnik altro 28 n è uguale all'altro c'è un po più di determinazione ma identico come come quell'altro in difesa questo è miroshnik sarà difficile pronunciarli nem cianic nem cianic nov mamma mia ragazzi nem cianinov terzino sinistro questo non è male forse i giovani forti se le prendono dinamo e shaktar certo lollo com'è brutto quel biondino fammelo rivedere no nicolò lascia sta lascia sta meglio che non lo rivediamo andiamo avanti se no stiamo tre ore veramente mi devo presentare la rosa guardate questo qua non è male come impegno come aggressività non è malaccio rimesse lunghe c'ha pure non male direi non male poi andiamo avanti e questo è il reparto difensivo titolare per il momento poi ci abbiamo anche sto shestakov che può fare il terzino ma anche l'ala lo metto in panchina i macelei mi piacciono sempre sì sembrano tutti mafiosi e sicari beh raga è abbastanza e le facce sono abbastanza brutte effettivamente è vero però adesso arriva arriva il pezzo forte ragazzi il centrocampo perché abbiamo il giocatore più forte della squadra che è questo dmitro clioz ragazzi questo qua mi fa la mazzala offensiva è il più forte della squadra quindi un applauso al nostro dmitro clioz perché ha passaggi 13 tecnica 13 pensate quanto è forte per essere il più forte senza palla 13 cioè capite questo è il più forte della squadra il clima è freddo che le tempere li rende temibili esatto 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 poi c'è questo qui mi fa l'incontrista l'ho messo davanti alla difesa per aiutare la difesa perché è scarsa e quindi non ho messo il regista difensivo arretrato stavolta ve lo faccio vedere ma ho messo un incontrista ok per aiutare la difesa perché è scarsa questo come incontrista è una bestia guardate la determinazione il coraggio l'aggressività ragazzi l'impegno questo qua è buono questo è buono altro macellaio stufa esatto altro macellaio in mezzo al campo e poi abbiamo in teoria e ho preso non vi ho detto una cosa fondamentale io ragazzi l'obiettivo è ovviamente come ho detto prima la salvezza in questa prima stagione se poi rimane rimaniamo qua perché questa sarà una carriera che faremo anche abbastanza velocemente perché ho messo pochi campionati ma più che altro ho fatto l'affiliazione per fortuna che ho chiesto l'affiliazione con una squadra europea lo sapete con chi il monaco quindi sono riuscito a prendere me l'hanno presi come vedete alcuni giocatori come jules berry eccolo qua guardate ragazzi questo potrà questo ha 18 anni iniziano i giovani che non è niente male e poi questo qua che sarà il titolare tiago ribeiro un altro centrocampista di 19 anni lui è portoghese però stava ovviamente lì e poi anche iad le chereppo questo qua questa punta 18 anni non è male per questo campionato va benissimo poi l'altro che metto è sharpar guardate ragazzi è lento però non è male a 34 anni ma è molto lento anche questo uno spezza ossa come vedete centrocampista centrale di supporto 34 anni non è male adesso vi faccio vedere la anche come metteremo la squadra ovviamente poi sulle fasce eugen pasic i gemelli di io questi ragazzi li chiamo i gemelli e gemelli derek come si chiamano quelli lì no carter i gemelli di oli e benji guardate sulla destra eugen pasic e sulla sinistra genadi pasic sono sempre loro derrick mi pare sì sì derrick avevo detto bene allora all'inizio i gemelli derrick eccoli qua e pasic guardate sono uguali eh questo e questo che sono fratelli eh sono fratelli sulle fasce e poi abbiamo la punta che ha fatto ben ragazzi sei gol poi ne abbiamo un altro che ha fatto otto gol ovvero shestakov otto gol questo trentunenne che non è male la capta da punta infernale qua la fanno glaciale esatto e poi abbiamo questo robert non è male ungherese sono gemelli davvero sì nicolò sono fratelli veramente berosischi beresuschi in nazionale russa qualche anno fa come si scrive sì beresischi dovrebbe essere alti uguali stessa età hanno sì sì sono gemelli ragazzi sono gemelli 28 anni 1 e 74 sono gemelli guardate si assomigliano guardate e guardate quest'altro vedete il naso sono identici sì sì stessa età e alti uguale esattamente under sono gemelli e io li metto in campo ma ne abbiamo altri ragazzi poi vi li faccio vedere abbiamo sto eh gerchishuk niente di che abbiamo questo qua che ero in questo qua eh daknoski danoski questo qua danone lo chiamiamo 23 n e poi ho preso anche questo in prestito dalla dallo shaktar perché lo volevo per il futuro non male 17 anni voi dite perché lo lo hai preso tutti questi giocatori a me l'hanno preso pure uno loro questo vladivslav primac me l'ha preso guardate questo centrocampista centrale me l'ha preso il direttore sportivo alla fine siccome non riuscivo a prendere centrocampisti ho accettato ma non abbiamo più soldi ok poi ci abbiamo questo michael geceb ve lo faccio vedere non è niente di che 24 anni moldavo uno dei pochi stranieri della squadra a parte i francesi che ho preso eh quelli dal parte quelli del affiliati del monaco abbiamo questo geceb perché che altro manca c'è sta cosa ve l'ho fatto vedere questo panasenco altro centrocampista centrale che non è malaccio insomma la squadra è questa ragazzi vi faccio vedere gilberi l'ho fatto quest'altro difensore centrale makev la difesa centrale siamo messi malissimo bello la prima volta che vedo i fratelli gemelli nfm sì nicolò infatti è molto bella sta cosa e poi questo artem daniluk l'ho preso guardate questo cresce molto bene questo non è male 20 anni l'ho preso dalla dalla primavera fondamentale questa è la rosa ok vi faccio vedere le tattiche che useremo la tattica è la stessa ok è la stessa che ho usato e che useremo anche qui quella che usavo in col como quindi chi mi segue da un po sa che io uso questo 433 con in possesso in questo modo ok adesso stufa vi dico i limiti e tutto quanto vi dico le regole del campionato prima vi faccio vedere le tattiche e poi vi dico le regole del campionato è in ordine vado e poi i trasferimenti ok e se mi sono scordato qualcosa altro ditemelo e gli allenamenti che ho cambiato qualcosa vi faccio vedere queste quattro cosette per iniziare la carriera allora faccio in questo modo quindi stessa tattica sulle fasce sperando che i cross arrivino bene sul sul puntero centrale che è un attaccante che pressa ha un gran feeling questa squadra per niente esatto per niente clacchio è uno schifo è uno schifo infatti tento di rifondarla io infatti guardate la familiarità con la tattica uno schifo lo vedete purtroppo è la seconda tattica e non in possesso è importante ragazzi cosa ho fatto siccome ho fatto una prima amichevole l'ho fatto la mia solita linea difensiva avanzata ma siccome sono scarsi i difensori centrali ho dovuto abbassare la linea di difesa l'ho messa standard non più alta però ho fatto la linea di pressing leggermente più alta ok quindi davanti pressiamo metti rafflegami in allenamento il più rafforzamento legami in allenamento il più possibile si clacchio lo metto lo metto allenamento adesso vi faccio vedere cosa ho fatto poi in transizione ragazzi vi faccio vedere le ultime cose pressing contropiede il mio solito gioco sui terzini quello che sapete il 4 4 2 è la stessa identica cosa però poi devo ancora cambiare il 4 4 2 è la seconda mia tattica perché loro giocavano 4 4 2 quando l'ho presi però a me il 4 4 4 2 non piace ce l'abbiamo le punte però preferirei prima concentrarmi su questa ok sulla mia tattica principale che è la solita questa qua col como ok tattica principale allenata queste quindi sono le tattiche i giocatori ve le ho fatti vedere importante dinamiche come vedete ho fatto io per fortuna ho fatto mi sono presentato come allenatore e ho dato un po un'atmosfera positiva al club buona buono il sostegno allenatore atmosfera club purtroppo l'affiatamento squadra come vedete è scarso ancora non hanno giocato molto insieme nel senso con la mia tattica e quindi non mi conoscono però come vedete i gruppi i gruppi sociali alla fine va bene perché abbiamo solo un giocatore che sta da solo però per il resto ci siamo ci siamo ok ci siamo come l'affiatamento dobbiamo farlo allenamento allenamento calendario cosa ho voluto fare allora tecnico prima fisico gli ho fatto fare ok tecnico gli ho messo rafforzamento legami rafforzamento legami qua manca qui rafforzamento legami eppure qui adesso gli metto tipo per quattro per un mese gli metto rafforzamento legami ragazzi come diceva mi ero scordato di metterli metto rafforzamento legami per qua per un mese ok quattro volte l'avevo messo già qua adesso ci abbiamo partito con lo stum grazie ho fatto questa con il no gornic letna vi faccio vedere anche la amichevole comandata purtroppo e ho messo fisico per due volte fisico perché erano tipo due mesi che non giocavano poi tecnico l'ho modificato ho fatto difesa palla a terra difesa sulle palle alte io ho messo la difesa palla a terra perché ragazzi sono scarsi ci hanno al gol che abbiamo subito in amichevole purtroppo siccome l'ho fatta da poco mi ricordo ci hanno infilato con la difesa alta ok quindi proprio in mezzo per cui e con due calci piazzati per cui poi dovrò anche allenarli sui calci piazzati perché sono proprio scarsi però prima è importante la difesa e anche qua ho messo tutto ciò che riguarda la difesa e ho messo soprattutto ragazzi per la tattica questo è un consiglio che vi do segnate oltre la riabilitazione io metto anche invece che riposo revisione della partita ok non in tutte per esempio qua non la metto però in molti allenamenti io faccio il doppio il doppio allenamento diciamo la domenica di viaggio dopo il viaggio gli faccio fare la revisione e la riabilitazione o viceversa questo ragazzi non so se ve lo fate ma è molto importante perché la revisione della partita serve io metto sempre la revisione grande claio perché serve per aumentare la forza delle tattiche ok io faccio questa cosa di solito gli allenamenti non ve li faccio vedere poi a seconda della settimana a seconda di quello che io vedo questo ammetto che non lo uso spesso e stufa io te lo consiglio come vedete qui ho messo prima tattico poi attacco sto facendo un po capito ragazzi piano piano mese per mese perché devo capire come vanno prima si mette lo puoi mettere o prima o dopo io per esempio qui ho messo prima riabilitazione per revisione di solito faccio così prima riabilitazione per revisione qua invece ho fatto prima revisione per riabilitazione ma dopo la riabilitazione vabbè io vabbè qua ragazzi si può pure fare come vi pare potete fare così vi faccio vedere come si fa perché magari qualcuno non l'ha fatto allora qua fai riabilitazione e qua fate come dicevo revisione della partita ok fate così riabilitazione revisione riabilitazione revisione bella saluta tuo figlio batman ciao caro non mi ricordo il nome pensa che io fm 21 mi faccio da zero tutti gli allenamenti ci prendono una vanga di ore sì ragazzi gli allenamenti sono importanti per il momento questo mese di febbraio poi a marzo ci penso devo capire come va la squadra perché se non capisco come la squadra io di settimana in settimana gli vado a scegliere l'allenamento adatto per me adesso però la difesa è fondamentale la tecnica ovvio la tattica e l'attacco per me la riabilitazione subito dopo il match è per il recupero fisico sì sì certo ragazzi poi si può fare così ma è viceversa tanto lo metti prima o dopo quello non conta poco gli attaccanti le ho fatti vedere prima grande lollo è un piacere sentite parlare di queste cose grazie falchetto vabbè io lo faccio con passione perché sapete che il calcio è una mia passione e avendo anche il patentino d'allenatore ci provo peccato che siamo pochini ma raggiungeremo nuovamente i livelli di come eravamo di quelli che eravamo piano piano le persone verranno a vedere il lollo stavo mangiando ah ok ti faccio rivedere gli attaccanti grazie falchetto grazie pasta e piselli buona buona pasta e piselli ci piace allora punta centrale robert ghegedos questa è la punta centrale pietro che metto di dolare anche se non è granché ha fatto sei gol e l'altra punta forte è mikailo sheshtekov questo qua 31 anni sono tutti vecchi eh finalizzazione e freddezza sono non è forte no ragazzi questa è una squadra così e quest'altro l'ho preso in prestito adesso vi faccio vedere allora prima dei trasferimenti vi faccio vedere le regole del campionato competizioni regole allora guardate le regole del sto campionato allora si chiama fabet lia sarebbe la premier liga si chiama fabet lia ok la serie a ucraina prima cosa come vedete la prima fa i playoff percorso campioni della champions league la seconda secondo turno di qualificazione percorso della champions league la terza va nei playoff dell'europa league tutti i playoff fanno la quarta terzo turno di qualificazione all'europa conference league la quinta secondo turno di qualificazione dell'europa conference league mentre la tredicesima la quattordicesima fanno la promozione playoff promozione retrocessione ok si chiama così quindi è un playoff e la quindicesima dove siamo noi adesso e la sedicesima sono retrocesse ok le regole della classifica sono scontri diretti differenzialetti gol segnati ok ciao falchetto il canale discord c'è sì però non viene usato tanto ci sta falchetto se vuoi il canale discord è poi le due squadre vengono le ultime vengono retrocesse come già ve l'ho spiegato allora qui importante sono 16 squadre e giocano 30 partite ok ne abbiamo già fatte 18 siamo oltre la metà della campionato abbiamo solamente ragazzi 14 partite di campionato più quella di coppa che dobbiamo fare ci possono essere regole partita ragazzi qui state attenti ci possono essere al massimo 7 giocatori stranieri nell'11 in campo ok 7 stranieri ne puoi prendere quanti te ne pare ma ne puoi schierare solamente 7 quindi non esageriamo con gli stranieri stranieri significa tutto ciò che riguarda l'europa è portoghesi francesi italiani qualsiasi cosa qualsiasi cosa sono stranieri brasiliani ok serbi qualsiasi cosa giocatori under 21 possono automaticamente giocare ogni partita ecco perché l'under 21 non vengono segnati e possono essere schierati solo i giocatori registrati per questa competizione e 5 su 9 le regole per le sostituzioni quindi 5 su 9 giocatori quindi 5 sostituzioni ragazzi come in italia ok per via del post covid questo è importante e i giocatori possono vabbè non possono fare gare ufficiali per più di per più di due club tra il primo luglio e il primo luglio 2022 e ci sta il bar una squalifica ogni quattro cartellini gialli vabbè questi cavoli allora queste sono le registrazioni della rosa sentite qua sentite qua allora almeno quattro cresciuti nel vivaglio per tre stagioni prima del ventunesimo anno d'età ok 4 4 cresciuti nel vivaglio che non ci abbiamo 8 cresciuti nella stessa nazione qui ce ne abbiamo tanti e possiamo avere un massimo di 25 giocatori ok questo è importante i giocatori possono essere registrati dal primo luglio al 3 settembre dal primo gennaio al 2 marzo cioè il calcio mercato va fino al 2 marzo ragazzi stiamo al 12 febbraio quasi un mese però non possiamo fare calcio mercato perché non abbiamo soldi come sapete e stop la capacità meno stati e 5.000 queste sono le regole del campionato se io vado su rosa giocatori registrazione abbiamo infatti vedete 0 cresciuti nel vivaglio ok abbiamo 21 giocatori e non 25 perché purtroppo ci mancano i quattro giocatori però ne abbiamo 19 che sono cresciuti che sono stati per almeno tre stagioni fino al ventunesimo anno d'età all'interno dell'ucraina ok ragazzi questi under 21 che sono stranieri non li come vedete under 21 non bisogna registrarli che possono giocare sempre ok va bene ragazzi e questo è quanto questo è quanto non è finito che mancavano i trasferimenti gli faccio vedere la storia dei trasferimenti allora partiamo dai trasferimenti non hanno mai speso soldi guardate ragazzi tutti a costo zero l'hanno presi non hanno una lira questi il presidente non ha una lira era una battuta eh sì ragazzi quella la era una battuta pietro non ti preoccupare non era contro di te pietro tranquillissimo scherzate ridete sono tutte battute quelle che si fanno qua qui è sempre il clima è sempre molto gioioso e tranquillo allora l'ho preso parte a polack pro del nazionale austriaco hai preso pro del ok allora che vi che vi volevo dire ragazzi guardate qua chi ha preso il lollo allora dal vorsk la ho preso danilo garmash che ho voluto prenderlo perché non riuscivo a prendere nessuno ma l'ho messo nella under 19 magari in futuro ce lo compriamo perché c'ha 17 anni poi l'8 gennaio come detto luschenko quel ragazzo che invece sta nella rosa ok sta nella nostra rosa 17 anni centrocampista centrale anche perché non riuscivo a prendere nessuno ecco perché poi vabbè questo qua caverin 18 anni sempre questo l'ha preso il direttore sportivo per l'under 19 mikita caverin non è malaccio è under 19 però le cose buone sono livate dall'affiliazione del monaco come vi dicevo tiago ribeiro jules berry e jade le cherepo questo qua poi abbiamo preso a costo zero primac ve l'ho fatto vedere prima abbiamo preso konovalov ragazzino di 18 anni in under 19 tutti under 19 kristenko under 19 li faccio vedere al volo tokar questo under 19 ma sono tutti scarsetti e anche questo yemakov under 19 ok ragazzi cioè abbiamo veramente preso per la prima squadra tipo 3 4 giocatori non di più e già ho fatto tanto già ho fatto tanto per questi qua sono andati quest'altra ragazzi laro business invece questa squadra che leggete qui a destra è l'affiliata dove noi manderemo in prestito i nostri giocatori l'ho fatta sempre io e per fortuna siamo riusciti a dare in prestito alcuni giocatori a questa squadra questo è quanto vi ho spiegato tutto ragazzi adesso possiamo andare a fare la prima partita amichevole no non è finita scusate andiamo sul calendario vi faccio vedere purtroppo l'amichevole che ho fatto contro il gornik leczna questa squadra qua che è una squadra polacca abbiamo giocato da loro abbiamo perso 3 a 0 una cosa vergognosa il primo tempo hanno giocato questi guardate i voti ci hanno fatto tre tiri tre gol ma guardate le nostre statistiche 14 tiri a 10 5 a 4 male l'xg l'xg 8 a 4 tiri 58 per cento possesso palla cioè abbiamo giocato bene con il possesso palla abbiamo fatto buoni passaggi completate 89 per cento contrasti vinti non ottimi colpi di testa così così però loro guardate quando hanno segnato primo minuto 27esimo 41esimo ci hanno con due punizioni quindi calcio di punizione verso l'area e hanno anticipato i nostri difensori e portiere scarsissimi e poi ci hanno segnato come vi dicevo in profondità male il primo tempo quelli che sono entrati nel secondo invece guardate hanno fatto una gara interessante vedete danni luc 7 vedete hanno fatto una gara interessante quelli del secondo tempo adesso adesso facciamo la seconda amichevole difficilissima squadra in teoria più forte di noi ma sono quasi tutte più forti di noi in europa io continuo e facciamo l'amichevole con lo stum grazia ci siete adesso andiamo a vedere come va sta squadra allora qui che ci dice il minai offerta di prestito per ghecev ghecev perché lo stanno dando via ghecev perché lo stanno dando via ma no infatti non lo dovete dare via trasferimento magari in prestito chi l'ha messo in prestito non precisato no ma infatti no l'offerta per ghecev ok la dirigenza crede che il club potrebbe ottenere molti più soldi per il giocatore e ha deciso quindi di cancellare il trasferimento perfetto e credo 1 e 4 che ce faccio non capisco perché lo sta facendo lui comunque tanto poi lo dico io per cui biglietti biglietti prego dai falchetto pronti alla partita questo torna domani ragazzi dopo lo vorrei vedere in campo ghecev poi non è malaccio offerta in prestito ma no scusate ragazzi io non lo voglio non lo voglio dare in prestito ghecev a noi ci serve che da in prestito non c'abbiamo nessuno trasferimenti contratto no mi sa che ok no non è più non è più in offerta non è più in offerta lollo che skin è questa allora nicolò questa qua è la come si chiama non me la ricordo più z me skin mi pare z fe non me la ricordo ragazzi oddio ho un attimo di aspettate che da qua la vediamo da preferenze mi pare che dalla fm e ziland eccola qua la versione 2.3 fm e ziland la leggi questa qua apposto che non me la ricordavo a memoria perché le cambio sempre le skin sto cercando quella che mi piace di più e questa mi piace devo dire accetta di cancellare l'accordo ok perfetto allora vladimirov in procinto di trasferirsi questo qua va bene analista performance al 19 non ce ne prega niente andiamo a fare l'amichevole daje belli fomentati forza ma le skin e face si possono installare anche se sta utilizzando f 22 dal game pass e falchetto dal game pass si dovresti poter utilizzare ma non so come bisogna cercare sul web perché io ce l'ho da da steam da pc non uso quello del game pass però ci sta il modo penso ci sta il modo lo stesso e falco io oggi ho fatto l'aggiornamento dell'opz si quella è molto bella anche l'opz fatta l'offerta per gruscia mikita gruscia vabbè questo è un altro ragazzo per le giovanili provo a cercare e mi dispiace perché io non l'ho mai fatto da la è la prima volta che ci sta football manager su xbox game pass mi pare o la seconda però ho sempre avuto da steam allora ok partite formazione ragazzi andiamo a farla va vediamo come giochiamo mi preoccupa mi preoccupa veramente tanto sta squadra proviamo a mettere questi che vi ho detto prima soldat con carenco miroshnik nemchaninov con kichak kliots shar parpetko pacic pacic gegetosh si la seconda che hanno tolto da poco il 21 ok la seconda allora vedi mi ricordavo io però ragazzi in panchina vorrei vorrei aia invece che gecev mi metto sto ragazzo sto ragazzetto po ok facciamo così avversario come sempre lo sapete che io faccio sta cosa giocano allora per esempio abbiamo sofferto molto il 4 2 3 1 il 4 2 3 1 il 4 2 3 1 pressing sempre pressing sempre io faccio sta cosa lo sapete andiamo su sto smith non conosco i giocatori quindi vado così che vigni e boa sarà molto pericoloso già lo so ok il strumgratz mi preoccupa che è più forte però noi noi facciamo la nostra partita dai adesso mi serve pure per riprendere un pochino la forma ragazzi sono stati fermi per due mesi nel campionato ucraino due mesi di di fermo cioè una cosa bestiale quindi dobbiamo fargli prendere un po di un pochino di forma fondamentale ok qualcuno è contento della iniziano con la familiarità va meno male meno male iniziamo un po con la familiarità la tattica che è importante eh da quelle parti d'inverno si fermano eh sì eh sì per forza perché fa un freddo cane proprio ragazzi qui dice nessuno si aspetta una cosa positiva ma io sì invece stringi i pugni credo in voi eh ragazzi qualcuno si è motivato ma ho difficoltà a motivarli ancora mi devono conoscere non conoscono e loro non conoscono guardate il campo innevato ragazzi guardate dove giochiamo un pezzo marrone un pezzo verde tanto ragazzi ho messo questa schermata eh bordo campo in questo modo che la vediamo bene la partita mi piace come l'ho messa allora dante smith questi stanno giocando anche bene bene l'anticipo sharpar madonna che freddo cioè c'ho freddo solo a vederli allora diamo un po' di incoraggiamento alla squadra subito 13 minuti dai Everest eh falche questa è un amichevole però speriamo bene dai soldat petko soldat per klioz in mezzo nemciani nov a lui maglia rossa grande pacic buono per sharpar bene bene gedetosh ha provato il tiro ma klioz è il giocatore più forte la mezzala fa lui dietro per soldat vediamo un po' che fa questo e calcio d'angolo guadagnato dai si 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 anche se è solo amichevole fa comunque morale è vero è vero è vero gedetosh in mezzo deve fare morale esattamente è quello che interessa attenzione eh però perché mi va no c'è nevica bestia si nicolo le avevo letto prima il tempo di questa amichevole purtroppo lo sapevamo che era che era un casino intanto recupero ottimo di pacic bravi bravi in mezzo per gedetosh anticipato ancora petko non stiamo giocando malaccio eh oh vedo qualche sprazzo di gioco del lollo vediamo 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 gonciarenko dentro per l'attaccante ancora pacic bene per l'altro pacic ottimo soldat klioz soldat klioz in mezzo colpo di testa e sfioriamo il gol regà sfioriamo il gol aspettate che refrescio qua non ho visto le statistiche i modi non sono malaccio buono il pressing bel fraseggio dai non male eh rispetto alla prima amichevole insomma mi preoccupa molto ho dovuto mettere la difesa standard perché si fanno sempre beccare aia 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 fermalo 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 aia tiro alto nicolò il campionato inizia dopo queste due amichevoli quindi sarà abbastanza veloce perché oggi già siamo alla prima amichevole poi ne facciamo un'altra e poi inizia il campionato ho dovuto mettere le amichevoli perché devo capire la squadra che non sta giocando male oggi ho messo su soldat bene mi piace petco il nostro incontrista per sharpan non abbiamo un regista nel senso uno che mi fa gioco attenzione quasi quasi eh ho messo sempre fraseggio veloce ragazzi non ho messo ovviamente non ho messo attenzione di hop aia ha sbagliato tutto si sono molto utili le amichevole ragazzi soprattutto con una squadra che non conosco per niente come questa non stiamo tirando molto in porta eh andiamo un po' soldat per kliots ancora per kliots bene per sharpan buono buono si le amichevoli sono le basi per tutto certo certo buono ancora bene dai abbastanza precisi dai pensavo peggio è la difesa che a me mi fa paura ragazzi la difesa che è veramente no però vedete questi che lanciano lungo ma non è il mio gioco il lancio lungo porca miseria manco ho messo il fulcro di gioco no nyangbo attenzione guarda questo come corre grande intervento ma non è rigore oh ma non può essere rigore ha preso il pallone ragazzi no non ci credo ma dai regà non ci credo non ci credo che era rigore quello cioè ha preso il pallone comunque ti ricordi dove ho detto che aveva mia relazione con paloschi si me lo ricordo no vabbè regà non era rigore questo comunque un po' rosico andiamo avanti ci hanno preso in profondità arbitro venduto però ci hanno segnato sul calcio di rigore già già è importante che non ci hanno segnato su azione però la difesa mi preoccupa tantissimo tanto qui buona apertura propazic kliotz kliotz va lui e grande parata che occasione eh il bar non ce l'hanno temo no 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 si 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 stufa l'ho detto prima ce l'hanno il bar nel campionato ucraino il problema è che non ce l'hanno nel dinamichevole però nel campionato ucraino c'è il bar c'è il bar le statistiche stiamo come loro non tiriamo molto in porta ragazzi e pasic a sinistra ha fatto ridere bella eustas benvenuto caro tutto a posto carissimo benvenuto caro benvenuto grande eustas peccato per il rigore si vabbè però guardate ragazzi le statistiche ci sono bene il possesso palla bene i passaggi completati stiamo giocando contro lo stumgraz che è più forte di noi perché è più forte di noi sicuramente spogliatoio intanto stringibugni no punta il dito questa ok sono tutti motivati rimettiamo gli stessi ragazzi mettiamo questi facciamo fare un pochino di no a parte sto pasic un po' di di forma un po' di ritmo partita li dobbiamo far prendere a posto di pasic ancora non li conosco bene mi sa che metto Mikhailo Sergisuk no ma questo è un centrocampista destro a sinistra metto Dachnoski metto Dachnoski a sinistra fatemelo vedere un po' sto Dachnoski in teoria può fare l'ala invertita attacco va bene va bene va bene va bene va bene va bene istruzioni però questo non le fa come voglio io rossa centrale non le fa proviamo dai stiamo giocando così guardate in difesa ragazzi 640 650 i centrali di difesa sono una cosa bestiale ma è la squadra lgbt si questo qua si si è una squadra è fortissima questa squadra ragazzi niente va bene spogliatoio speriamo bene ragazzi cominciamo il secondo tempo almeno a non perderla per dare un po' di morale aspettate però hanno fatto delle sostituzioni sapete che io su ste cose sono maniacale può pure non servire ma io le faccio sempre pressing sempre col più debole col più debole ok conferma e vai ah la difesa mi preoccupa ragazzi dovrei prendere un difensore proprio forte 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 ma poi non riusciamo perché non riesco con gli ingaggi non riesco proprio no guardate la punizione mamma mia sfiorato sì io lo faccio sempre falchetto secondo alcuni ruoli io lo faccio sempre poi magari non è corretto ahhh mamma mia raga mamma mia i momenti segnavano ok adesso come al solito essendo un amichevole mettiamo tutti gli altri va allora vi faccio vedere Kogut al posto di Kichak poi Shestakov a destra al posto di Soldat poi voglio mettere Jules Berry qua come centrale di difesa con Maknev qua in copertura anche se farei una cosa del genere perché è più forte in copertura Berry poi a sinistra invece mettiamo come terzino sinistro sto Chen Bai che può fare anche l'ala ok terzino atto offensivo poi mettiamo Primak Primak qua come incontrista ma questo qua mi può fare pure questo può farmi tranquillamente il regista retrato ok mi facciamo un po' mettiamo il regista con Panasenko Panasenko che lui può fare tranquillamente il centrocampista di quantità e questo Lushenko ve lo faccio vedere a posto di Klioz come mezza l'offensiva metti mai contrassimi aggressivi agli ammoniti no stufa mai oh prova a prende Bo no no Batman non arrivano qua non vengono proprio non sono i giocatori non vengono perché non sono attratti da questo campionato quello è il problema purtroppo allora Sergi Shuk ragazzi Sergi Shuk al posto di quest'altro Pajic come ala offensiva e poi Shestakov al posto di Gegedosh se vediamo che non basta ah beh li hai tolti direttamente si 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 li ho tolti direttamente facendo così si li ho tolti direttamente esatto non li metto proprio non metto proprio i contrasti aggressivi esattamente non li faccio proprio i contrasti aggressivi perché sennò abbiamo due espulsioni a volta no non sono attratti da sto campionato ragazzi è difficilissimo prendere i giocatori per questo è che è difficile come vi dicevo sui carboni ardenti siamo perché è veramente complesso fare fare tutto innanzitutto comunichiamo e incoraggiamo la squadra poi non mi posso difendere che comunque dobbiamo in ogni caso dobbiamo dobbiamo segnare raga panase guarda questo ma guarda questo come ha buttato via la palla pure le condizioni di campo ovviamente non favoriscono il calcio basso guarda questo no no che gol ha fatto raga che gol ha fatto eh niente da fare è una squadra scarsa avremo veramente molto 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 avremo dei problemi a mio avviso 73 minuti che si può fare poco e poco e niente proprio Stumgraz più forte fatto un gol da paura è più forte però amichevoli iniziamo molto male non riusciamo proprio niente pure con i sostituti oggi niente va è finita così stiamo al novantesimo non è finita così va bene ragazzi grazie di questa bellissima partita già due amichevoli abbiamo subito 5 gol e non abbiamo mai segnato molto bene devo dire molto contento molto più sofferta del Como ma che scherzi il Como era mitica era stupendo il Como guarda qua ragazzi sono stati superiori sono stati superiori e senza contrasti aggressivi ho avuto due ammuniti questo è il solito football manager bisogna migliorare ragazzi bisogna migliorare adesso facciamoci l'altra amica voleva ci facciamo pure l'altra per capire che possiamo fare più che altro su sta squadra che possiamo fare su sta squadra sono veramente in dubbio perché 4-4-2 si può pure fare ma 4-4-2 a me non piace non mi gioca come voglio io è proprio diciamo uno schema che non uso mai vabbè dai vediamo proviamo ragazzi andiamo avanti dai intanto adesso velocemente facciamo quest'altra che è il sabato 19 facciamo questa qua sarà durissima Eustas ti sei perso tutta la parte iniziale Eustas che ho fatto tutta la presentazione della squadra siamo in Ucraina forse l'avrai capito buon acquisto questo ma che me frega me di Valerio di Cesare 38 anni ma posso prendere un 38enne via non mi interessa questo Said com'è intanto non posso prendere nessuno ragazzi ci abbiamo soldi io li vedo lo stesso i giocatori ma intanto non possiamo prenderli osserviamoli social network andiamo avanti no stasera non ce la faccio la prima di campionato Nicolò sono già le 10 e un quarto eh ci abbiamo avuto quel problema con la visualizzazione della live è stranissimo purtroppo ho cenato tardi ma ho visto che sei in Ucraina sì sì Eustas sto in Ucraina caro sto in Ucraina sto in Ucraina nel Veres siamo sulle orme di Batman già l'ho fatto già l'ho fatto ragazzi sono già stato ho fatto tutto quello che voi potete immaginare svincolati prestiti pure se ti avvicini non vuole venire nessuno vabbè ve li faccio vedere tanto vi faccio vedere un attimo perché magari vi faccio vedere osserviamo questo è un acquisto di qualità vi faccio vedere per esempio che ne so un difensore centrale quello che ci serve a noi tra gli svincolati difensore centrale svincolato eh già ci sta vi faccio vedere questi sono tutti gli svincolati che ci stanno Gianni Zuiverlun 35 anni ma già che questi mi dicono 6-6 e mezzo guardate non c'è nessuno tutte pippe non c'è nessuno interessante Dominic Tinga non so com'è vedete cioè gli svincolati sono questi Diego Angelo poi me li devo vedere piano piano non c'è poi tutti 36 anni 37 39 sono veramente veramente scarsi sto Calazze com'è Calanazze Andri Calandazze allora ho fatto io l'offerta no Luzgorod cioè questi qua sono vedete ragazzi sono questi i giocatori gli unici che sono nemmeno messo interessato al trasferimento sono gli unici che ti dà per poter che puoi avere in questa squadra cioè niente tutte queste pippe ci stanno è inutile vada a avere 19 anni 21 anni 20 anni capito qual è il problema Batman svincolati niente gli unici che possiamo fare sono i prestiti dal Monaco che c'è qualcosa di interessante per il resto poco niente allora siccome allora ragazzi siccome sto Miroshnik qual era quello l'allento questo qua allora sto Gonciarenko non mi sta piacendo no scusate Miroshnik non mi sta piacendo questo voglio mettere Jules Berry dentro voglio provare con uno un po' più veloce voglio provare sto ragazzetto Jules Berry può fare può fare il terzino e può fare il difensore centrale sicuramente può fare il difensore centrale in difesa il piede ovviamente il piede di questo giocatore che me lo perdo sempre è molto forte il destro sufficiente il piede sinistro quindi possiamo metterlo a sinistra Gonciarenko Gonciarenko il piede scusa sto vedendo i piedi di destro sinistro forte il sinistro molto forte ok allora questo possiamo fare in un altro modo Beric qui e Gonciarenko qui Gonciarenko che non è molto veloce lo possiamo fare in copertura però se non è veloce che copre un cavolo quindi in copertura mettiamo questo aspettate ragazzi difensore centrale in copertura questo fatemi fare un attimo tutte le cosette così vedete pure quello che faccio e poi mettiamo difensore centrale brutale proprio in difesa non in marcatura ma in difesa personalizzate gli fai così e gli fai sempre questa cosa vai il contrasto tu lo metto al singolo ecco mi era il telefono con la Gnaglia mi recupero da domani la parte che ho perso si Anderoxie hai perso un'amica vuole brutta adesso ne facciamo un'altra comunque adesso facciamo quella con Lobolon Brovarra Lobolon questa in teoria dovrebbe essere la nostra portata alleniamoli un po' sulla difesa dai alleniamoli sulla difesa speriamo bene adesso dovremo fare abbastanza veloce perché va abbastanza veloce sto campionato è solo che siccome c'è no questo non mi interessa voi che mi raccontate tutto ok ragazzuoli domani vi volevo dire porto non l'ho segnato sul programma ma ve lo dico già porto Euro Truck Simulator 2 domani e ricomincia se vi ricordate la Lollo SPA quindi che cos'è la Lollo SPA l'azienda tramite il Traxbook ok domani poi vi rispiego un pochino tutto quanto se volete avete Euro Truck Simulator 2 e volete giocare sia multiplayer tramite il Tracker MP e quindi il Traxbook e volete far parte dell'azienda del Lollo potete venire all'azienda e fare le consegne per l'azienda del Lollo SPA capito? è ritornata domani torna eh ve la faccio vedere domani qualcuno di voi se li ricorderà sicuramente eh Michi da Grusha va bene che me frega portiamolo un under 19 bello ETS si si under oxy domani lo lo portiamo dai domani lo portiamo e ci divertiamo un po' con la nostra franga ci rilassiamo un pochino pure eh questo va bene una pippa guardate questa è una pippa che ho voluto prendere così per la per l'under 19 magari cresce chissà lo lasciamo lì a crescere si molto bella ETS ti ricordi Falchetto dai domani lo portiamo e venerdì ragazzi speriamo che ci spero che ci siate spero che ci siate venerdì perché voglio riportare tennis manager ok per gli amanti del tennis visto che ci sono anche adesso le finals a Torino avete visto Berrettini che si è infortunato Sinner che è riuscito a vincere ieri insomma bella no bella storia quella insomma porto tennis manager 2021 bella veramente un bel un bel gioco secondo me venerdì Sinner è entrato bene per fortuna si si molto bene stufa poi vabbè adesso deve giocare contro Medvedeva che è il secondo nell'ATP è ovviamente Artem Kicak chi è scusate un attimo portiere ok Kicak vai facciamogli così punto al dito ok vai così diamo un po' più di forza venerdì sera mi sa che esco in caso del gubro dopo va bene stufa non mi lasciate da solo però eh ragazzi mi raccomando non mi lasciate da solo questo Grigov va bene formazione consigliata contro l'Oblon non mi interessa che mi dice lui di mettere Daniluk Chenbai Gonciarenko ah per la forma ok per la forma per la forma grazie Falchetto insomma se ci siete a me fa piacere tentiamo di di essere un pochino all'inizio è importante per far vedere che il canale c'è e che le persone magari si possono iscrivere tranquillamente possono mettere il follow sono i benvenuti in canale semplice tranquillo si gioca divertendosi cazzeggiando tennis manager però è veramente figo ragazzi veramente figo criticiamo sto cocco gut punto al dito male ok mamma mia si stanno allenando un po' meglio di prima ma dai domani ero track venerdì sabato ragazzi non c'è live che ho da fare sabato e domenica forse alle 19 riportiamo football manager ragazzi lunedì lunedì ragazzi tutti i presenti inizia la storia e la favola con farming simulator lunedì prossimo domenica alle 19 invece prima non si non posso se ci siete domenica alle 19 che alla fine che c'è sta domenica facciamo un'oretta un'oretta e mezza con football manager e iniziamo il campionato ok test fisici va bene partite vai vedete già siamo arrivati qua che ci ho messo due minuti e siamo arrivati alla partita ok allora adesso ci facciamo questa con kichak soldat beri gonciarenko nemcianinov speriamo bene vorrei però rimettere ribeiro come sta ok ragazzi ribeiro al posto di sharparra vi faccio vedere ribeiro come regista ok sabato guardi la partita certo falchetto c'è lazio juve sabato sì sarà tosta eh sto luschenko non mi è piaciuto quindi via facciamo così perché poi ci abbiamo tanto panasenko e quell'altro ok gecev daniluk proviamo ragazzi proviamo questi che vedevo di qui sulle fasce soprattutto non mi sono piaciuti ma che cambio sono tutte pippe qui dicono forza juve tutti forza juve tutti juventini siete hai tutti che attaccano sul lato destro occhio alle imbucate tutti che attaccano sul lato destro ah questi tre questi tre dici eh lo so lo so under lo so under però effettivamente effettivamente questa squadra non può avere tutti questi offensivi effettivamente questo qua è anche fa pure il terzino direi che uno lo mettiamo a supporto va hai ragione mettiamo a supporto l'ala e mettiamo i terzini offensivi con questo a supporto questo a supporto questo a supporto e questo offensivo è un po' meglio sì bravo nicolò si può entrare in azienda senza trackers mp sì si può entrare lo stesso però deve avere il tracks book nicolò la mezzata sta bene anche col piede invertito casomai quella offensiva metti la sinistra no preferisco così preferisco così perché l'ho vista molto bene questo qua è un destro puro e cliots può segnare da là vediamo un po' vediamo un po' così ragazzi vediamo però guardate tanto familiarità tattica non ci siamo ancora lo vedete qui non ci siamo e il problema è un altro che devono ancora capire come giochiamo questi giocano 4-3-1-2 chiediamo all'assistente va bene il pressing mi piace qua sarà tosta speriamo di impartire col como l'ho fatta molto azzardata effettivamente per come faccio io però vi posso dire che che è meglio mettere qualcuno più a supporto ha detto bene Under Oxy e così mi sembra un po' più equilibrata così mi sembra un po' più equilibrata vediamo dai vediamo ci proviamo così formazione conferma vediamo se le idee di calcio riusciamo a portarle su questo football manager dai dai forza andate là e mostrate di aver capito c'è falso il piano del talento sì questi che capiscono questi che capiscono solo la gnagna capiscono questi stringi pugni spacconi cioè sono spacconi rega invece che motivati vabbè andiamo forza e ora scendendo in campo per vincere eh ma è difficile vabbè questi sono scarsi Lobolon in teoria questa la dovremmo vincere se non vinciamo nemmeno questa è grave anche se siamo all'inizio quindi ragazzi come detto devono capire un po' le mie tattiche mamma mia mancontino un porta fanno io un mesetto sto con questa tattica ragazzi se vediamo che non va porta franga negli spogliatoi gli spegalei le tattiche infatti se sta tattica non va ragazzi mettiamo il 4-4-2 a sto punto Pasic traversa il tiro che sfortuna ancora il tiro di Pasic eh abbiamo preso la traversa eh almeno un tiro l'abbiamo fatto fagge dos no mamma mia regà a 2 all'ora giocano a 2 all'ora ancora Pasic ma che è sto cross ma che è sto cross ma che è sto cross mannaggia a te mannaggia che partita di merda ragazzi questa squadra deve per forza giocare con 4-4-2 secondo me lo sapete mi sta avvenendo sto dubbio perché non vedo proprio cioè ha giocato molto meglio prima Ribeiro per Clioz vediamo però eh vediamo non è detto buono il cross Ribeiro Clioz e tira vuole colpire l'omino dei panini classe sovraffine e piede ducato insomma mamma mia regà che tristezza ma dove sono finito dove sono finito questi non sanno tirare in porta rimango alquanto allivito dall'attaccante e dalle ali bene berì però eh bene berì allora ragazzi ragazzi sta squadra non va sta squadra così non mi piace non mi piace questa è una carriera molto tosta allora adesso io faccio una cosa faccio una cosa fatemi un attimo ragionare allora esce 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 l'incontrista anche se il centrocampo sta giocando bene esce l'incontrista e entra la seconda punta che è Shestakov allora Shestakov al posto di Petko Shestakov qual è Shestakov che numero c'aveva questo lo mettiamo qua aspettate e dai cioè potevo benissimo fare così che deficiente scusate ok facciamo così con in possesso sovrapposizione sì crossate di prima no tirate appena possibile grazie ok così mi piace pezzo attacco largo in transizione mi fa del solito e non in possesso mi state un po' più dietro ok tanto facciamo questo ragazzi e al posto di Gegedosh entra Po io ho dolore che Po questo qua vediamo sto ragazzino com'è allora il ragazzino che ruolo c'ha ottimo può fare la seconda punta perfetto seconda punta in attacco e Shestakov mi fa invece l'attaccante che pressa offensivo attaccante che pressa offensivo due punte leggerine vediamo un po' con Pasic che qua mi può fare mi può fare tranquillamente l'ala invertita a supporto e che quest'altro Pasic mi fa l'ala attacco va bene con Tiago Ribeiro scusate un attimo ragazzi Tiago Ribeiro mi fai regista a supporto e Kilots che era una mezzala qua mi fai qua mi fai la mezzala a supporto uguale così entra dentro ci proviamo ragazzi vediamo un po' così poi dopo facciamo le altre sostituzioni intanto facciamo queste speriamo bene poi ad oio vediamo un po' come vanno 442 che cos'è non l'ho capito è il mio è il mio modo di dire ragazzi vediamo sto 442 questo 442 già ci ha fatto una bella verticalizzazione attenzione però è il vero è l'intercalare mio è vero hai ragione hai ragione under allora Pacic clio sembra che giocano così sembra che giocano sembra che giocano ma perché l'ha ridata ma c'è la calcio d'angolo il popo dell'italia popopopopopopopopopo è pure è pure regolare che mi stai fa vedere basta tutti sti replay dai 1 a 0 dai dai ne amichevole diciamo che il 442 ragazzi mi sta piacendo di più mi sa che impostiamo un 4 no non ci credo che non ha fatto il fuorigioco no non ci credo ma raga è rimasto dietro il difensore ma come cazzo si fa Sachenko tanto questo ragazzo lo c'è le c'è vediamo bolla dai buono per Pacic buono questo 442 invece forse forse abbiamo trovato abbiamo trovato forse qualcosa di interessante ancora il tiro buono questi sono molto più scarsi di noi oggi non c'è neve si gioca meglio si ma più che altro perché ho cambiato un 4 con un'altra tattica dai dai Sachenko bravo Kliots difende pure sto Kliots aspettate adesso lo sapete che io faccio tutte le sostituzioni perché siamo al sessantesimo allora Kogut apposta di questo eh adesso al terzino destro chi ci metto ci metto Shestakov uguale Shestakov a destra e può fare anche la destra quello Miroshnik e Makev allora Miroshnik qua Miroshnik che può fare eh però questo corre di più quindi Miroshnik me lo metti di qua come difensione in copertura e Maknev me lo metti al posto di di Gonciarenko ok poi a sinistra ci mettiamo Cembai che pipe allora Primack e Sharpar non Panasenko allora Primack intanto a centrocampo allora Primack qua e lo mettiamo regista mi fai regista a retrato regista a retrato a supporto va bene poi possiamo metterlo anche in difesa Sharpar mi fai la mezzala poi non è finito aspettate ragazzi aspettate e Dachnoski e Sergishuk allora Sergishuk a destra e Dachnoski a sinistra questo può fare l'ala invertita sicuramente e questo mi fa l'ala offensiva va bene lasciamo così vai proviamo ragazzoli proviamo con questi loro non hanno fatto sostituzioni conferma e vai vediamo un po' come giocano questi altri sessantasettesimo dai il 4-4-2 mi preoccupa quando c'è il trequartista offensivo è là che mi preoccupa tanto diamogli un po' di incoraggiamento non gli è piaciuto Mirosnik per Chen Bai vediamo un po' giocano forse un po' meglio col 4-4-2 lo sapete però deve esserci sempre una punta a supporto oh porca miseria attenti attenti pippe mamma mia mamma mia che rischio che rischio vabbè l'abbiamo fatti tirare da fuori già è meglio madonna però i tiri ci sono stati stavolta eh ragazzi abbiamo fatto un po' meglio dai questo lancio lungo buono per Sharpar bravo bravo qui mi è piaciuto attenzione attenzione Sergi Shuk Sestakov non male come giochiamo non male 1-2 1-2 bellissime queste sovrapposizioni col 4-4-2 diciamo che il 4-4-2 è è il modulo salvezza come vi posso dire vai un po' sul sicuro col 4-4-2 perché questi mi sa che non possono fare altro dunque siamo bravi prestano bene mi piace non gioca male ma che è sta cosa bravo il francese bravo il francesino bravo e c'è il 2-0 e c'è il 2-0 bravissimi molto bello bellissima azione bella azione hai visto Falke Shestakov qui non esce il portiere loro bene questo lo prende il pallone per Dachnoski che facile facile la mette dentro 2-0 non sbaglia davanti alla porta al 92 va bene va bene così dai ci possiamo accontentare non subiamo gol per favore che ne abbiamo subiti già tanti questo è fuori gioco grazie fuori gioco non è autogol aveva fatto autogol ma è fuori gioco ragazzi era fuori gioco netto aveva fatto autogol comunque guardate 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 che autogol fuori gioco netto era proprio Dimetri ma guardate che autogol che abbiamo fatto va Makev buttala via bene per Cestakov bravo non è fuori gioco e finisce molto bene molto bene mi rincuorrono un pochino le statistiche perché 17 tiri e 5 8 a 4 l'obolo però ragazzi è la squadra più scarsa rispetto a quelle che abbiamo incontrato prima è bene il possesso palla 60% bene passaggi completati dai contrasti vinti buoni non mi è dispiaciuto alla fine i voti ci sono Clioz Pasic non hanno giocato male mi è piaciuto prima vittoria di molte speriamo under speriamo ma non mi fido però possiamo secondo me possiamo fare bene possiamo fare bene under secondo me col 4-4-2 rispetto al 4-3 che avevo iniziato a fare ovviamente devo conoscere la squadra ed è così ottimo bene bene sono contento nella prossima si vince per arrivare in vetta no ragazzi stiamo stiamo tranquilli stiamo tranquilli io direi che come vedete la classifica è questa è questa la prossima sono d'accordo col mister dobbiamo stare tranquilli dobbiamo salvarci che è fondamentale questa è veramente una squadra scarsa l'avete vista è una penso che sia veramente is on fire l'ho chiamata carriera is on fire perché siamo sui bracciali ardenti qua qui possiamo essere retrocessi da un momento all'altro però potremmo arrivare come dico io ai fuochi d'artificio che cosa significa ragazzi arriviamo al boom al botto fuochi d'artificio per tutti quanti quindi significa che festeggiamo qualcosa speriamo guardate contro chi giochiamo la prossima l'ingulez la prossima iniziamo il campionato ingulez desna e zoria desna sta qua quarto in classifica molto forte zoria sta qua l'ingulez è a metà classifica vabbè non so dove prenderemo punti ma li dobbiamo prendere ora mi devo concentrare e mi devo fare io la tattica ragazzuoli io vi ringrazio che siete stati qui con me ci rivediamo domani con l'accento sulla u ingulez ingulez esatto under ingulez speriamo che lo prendano loro ingulez e non io soprattutto qua col veres perché la vedo la vedo duretta ma noi ci proveremo bella sera grazie falchetto grazie che sei tornato sono contento che vi sia piaciuta la live ci vediamo ragazzi domani ciao ragazzi buonanotte domani mi raccomando alle ore 21 ci facciamo una bella una bella passeggiata in spagna vediamo se riusciamo con il grandissimo mitico eurotrack simulator 2 bella clagio grazie ad essenza di presenta domani ragazzi notte a tutti grazie a tutti ciao 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 buonanotte ciao eustas ciao 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 ciao